Il colpo ha ricevuto Neymar già sofferente al ginocchio alla coscia Vediamo qui Zuniga che va a franare con il ginocchio sulla schiena di Neymar Mettendolo KO Il colpo ha ricevuto Neymar già sofferente al ginocchio alla coscia Vito alla schiena al contrasto precedente quando aveva cercato di difendere palla